L'estinzione della Fondazione La Colombaia, un'altra brutta pagina sul volto dell'amministrazione di Forio. Era annunciata dopo l'inerzia del Comune rispetto alla procedura avviata dalla Regione Campania. La gravità è che il Comune, il Sindaco, persone di rappresentante del Comune, non ha ritenuto condividere la scelta con le forze politiche e sociali che operano sul territorio, quelle anche espressioni dell'associazionismo culturale, per capire anche dopo questo evento luttuoso, direi che cosa se ne vuole fare della villa. Intanto è bene che si sappia che l'estinzione dell'ente, della fondazione, non è che c'è un automatismo per cui si estinguono i debiti e ancora di più si estinguono le responsabilità. Io mi preoccupo di quelle politiche. Tenevo e ritengo che con un percorso virtuoso, condiviso anche con la Regione Campania, con i soggetti, anche con i creditori, era possibile immaginare l'opportunità di non farla finire così. Mi interrogo se era opportuna la scelta di togliere fisicamente la disponibilità della colombaia, cioè della villa, alla fondazione che era l'unica fonte dalla quale si poteva immaginare un piano di rientro, sempre andando a verificare i livelli di responsabilità di chi, come e perché abbia fatto quei debiti. Uno, quando ha revocato il comodato, poteva già di fatto attivarsi per elaborare un'ipotesi, almeno transitoria, per tenere aperta la villa e renderla una delle attrazioni fondamentali per lo sviluppo del turismo sulla nostra isola. L'opposizione avrebbe avuto un piano per evitare l'estinzione dell'ente o la revoca del comodato? Certo, abbiamo, anche in consiglio comunale, ma anche subito dopo che la regione ha avviato la procedura, noi abbiamo chiesto gli atti innanzitutto per capire chi erano i debitori. Individuare i debitori e verificare se in chiave transattiva è possibile in qualche modo risolvere le questioni riducendo la massa debitori e comunque sempre pagando i debiti che hanno fatto, ma riconducendoli a chi li ha contratto, perché non siamo stati investiti nel problema. Il sindaco, il preavviso che la regione ha fatto sulle procedure di estinzione si è tenuto nascosto per 30 giorni nel cassetto, non ha controdedotto niente, non ha fatto osservazioni e neanche meno ha formalizzato delle eccezioni o ha evidenziato un allarme, non ha fatto esattamente niente. Dei corsi 30 giorni la regione lo ha invitato a pubblicare quella nota che teneva nel cassetto sul lavoro pretorio, ma ormai il dato era già tratto. È un evidente imbroglio la Colombaia, come la Pegaso, come la Torre Saracena. Se la gente è stanca degli imbrogli, che hanno nomi e cognomi, quantomeno gli facessero provare il salutare sentimento della vergogna e si indignassero i cittadini ancora prima di andare a votare. Io ho tutta questa indignazione, non la vedo, e vedo che i protagonisti degli imbrogli camminano tranquillamente per le nostre strade, e hanno anche l'ardire di potersi riproporre all'elettorato e nessuno gli dice che non sarebbe più il caso di farlo.